Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale Oggi nuovo look, per chi ha visto il mio ultimo video, capirà se non l'avete ancora visto Ve lo lascio linkato qui sotto nell'info box e mi raccomando non perdetevelo Per provare insieme la palette di Morphe per Nikita Io ho questa palette da qualche mese, però non ho ancora avuto occasione di provarla E quindi questo è un po' un video first impression A me solitamente gli ombretti di Morphe non dispiacciono assolutamente Andiamo a vedere questi come saranno Vi faccio vedere la palette internamente Come potete vedere l'ho già sbocciata, però appunto se l'ho sbocciata Questo glitter pressato, devo dire che mi chiama, cioè è super particolare Ha dei riflessi fucsia, blu, verdi e in videocamera mi sembra che rendano molto soprattutto quelli verdi Questo è super particolare perché è zebrato praticamente in viola e azzurro Questo è super brillantinato, questo anche mi ispira un sacco Ce ne sono abbastanza che mi stanno chiamando Quindi andiamo un po' a vedere che look potrebbe venire fuori Ovviamente come al solito ho già fatto la mia base E oggi come primer occhi cambio e vado a utilizzare questo di Neve Cosmetics Tra l'altro ce l'ho ancora nel pack vecchio Questa è la cugiata per makeup Solitamente non la utilizzo come primer Ma piuttosto lo utilizzo per mischiare i pigmenti E andare a creare appunto degli ombretti con dei pigmenti in polvere libera Però anche come base occhi non è per niente male perché è abbastanza appiccicosina Mi sono andata a mettere una clip per evitare di complicarmi ulteriormente la vita Per via della wig Intanto vado a mettere come al solito un po' di cipria Per evitare eventuali fallout No comunque ho già scelto la wig perché avevo dei capelli veramente Il primo colore vado ad applicare Nessie Questo nero Semplicissimo Però voglio iniziare dal più scuro per vedere un pochino come si comporta Insomma Andiamo a testare Vado ad utilizzare un pennellino da sfumatura non troppo grosso Sbatto l'eccesso Che si sa mai Allora che dire per ora mi sembra Bella scrivente Spolvera un pochino sulla cialda E per ora di fallout si ce n'è Un pochino Non troppo Vado a concentrarmi solo sull'angolo più esterno E ci vado a dare leggermente una forma Vado ora con un pennello pulito a sfumare i bordi Vado ora a sfumare questa situazione con Raisingan Questo turchese Petrollio molto 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 chiaro Lo vado ad applicare qui E vado ora a farmi più la forma Questo non mi sembra niente di che per ora Come ombretto Vediamo se stratificandolo migliora la situa Raggetta via Non si sfumano troppo bene in realtà Due colori Cioè resta abbastanza Una linea del nero Comunque andrò a sfumarlo ulteriormente Però come prima impressione un po' un po' così Si alla fine Questo turchese intensificandolo Cioè è venuto un po' fuori Vado ora a prendere Nikita Questo bellissimo fucsia E lo vado ad applicare nella parte più interna Qui è già un miracolo Se sto riuscendo a registrarvi il video Perché stanno facendo dei lavori Nell'appartamento qui di sotto E l'altro giorno hanno tipo trapanato Tutto il tempo E quindi avevo paura questa settimana Di non riuscire a portarvi i contenuti Aspettate che mi avvicino Scusatemi Ok decisamente meglio Aspettavo ancora un po' Finiva il video Vedete io mi devo sempre scordare qualcosa A volte mi scordo tipo La cipria per il fallout Altre volte il primer Stavolta mi sono scordata di avvicinarvi Comunque no Non mi Beh Non si sfumano bene tra loro Cioè vedete Sembra una macchia Poi io tipo Ho sfumato assieme questo fucsia con l'azzurro Ma viene tipo un color livido Che bello Cioè non lo so Non mi si sfuma bene neanche il bordo del fucsia Posso dire che non mi sta piacendo Che fail I'm back Sono andata a struccare tutta la parte del fucsia E ho continuato con Questo verde petrolio Chiaro E il nero su tutta la palpebra Ma comunque Ha fatto delle macchie Non lo so No raga Per ora non mi sta piacendo Mi dispiace Cioè anche comunque A sfumare L'azzurro Ha fatto molta fatica Anche i colori tra loro Comunque non demordiamo Andiamo ad applicare Matrix Che di solito i glitter Salvano un po' tutte le situazioni Vado a fare una specie di cut crease Con la base glitter di NYX E ora con un pennello a spugnetta Vado ad applicare i glitter Ok Questi sembrano fighi I glitter sono veramente Veramente fighi Ok Comunque no Devo dire che la nota positiva Di questi ombretti È che anche se spolverano Abbastanza nella salda Non fanno un eccessivo fallout Ad assumare un po' i glitter Col nero Giusto da Prendere la situa Un po' più Omogenea Comunque per assumarli meglio Ne vado ad applicare anche un po' Dove non c'era la colla Questi glitter in realtà Mi sembrano Già abbastanza Appiccicosi Anche senza una base Per glitter Però io preferisco Sempre applicarla Per maggior sicurezza Per evitare che vada Le glitter nelle pieghe Vado ora ad applicare Un po' di estrogen Nell'angolo interno Giusto per dare un pochino Di luminosità in più Non è che si veda troppo Questo colore Forse è carino Applicato con le dita Perché con il pennello Con quella spugnetta Ancora ancora Con questo Il nulla Provo a bagnarlo un pochino Vi consiglio comunque In ogni caso Di bagnarlo I glitter hanno salvato La situazione Assolutamente Ora vado Ora vado a ricreare La stessa situazione Sull'altro occhio E vado a finire il look Con le ciglia finte E ci rivediamo Per me Fra tipo tre ore Per voi Tra un secondo Eccomi tornata Con entrambi gli occhi Fatti E credetemi Che quando ci sono Questi ombretti Difficili Da sfumare Mi piacerebbe troppo Fare coppia E incolla Del look Già fatto Sull'altro occhio E sarebbe comodissimo Purtroppo Non si può E quindi Eccomi qui Tre secoli dopo Bastanza macchie Che per quanto potessi Ho camuffato Con eyeliner E ciglia finte Se il look Occhi terminato Come gli avevo Già anticipato prima I glitter li amo Direi di passare Velocemente Alle labbra Mi sono portata Due nude Questo è il Gingerbread girl Questo invece È il color boost Di essence Nella colorazione 04 Mad matters Vediamo un po' Quello che potrebbe Starci meglio Credo questo di essence Sì decisamente Che tra l'altro Io questi rossetti Di essence Almeno i color boost Questi qui Nel tubetto Ve li consiglio Un sacco Perché si asciugano Belli matt Non vanno via Assolutamente A pezzi Sono confortevoli Non trasferiscono Essendo rossetti liquidi E essendo Della essence Costano anche Pochissimo Ecco il risultato Del rossetto È un colore Secondo me Molto bello E ci può stare Anche abbastanza Con questo look Questo è il make up Finito Quindi che dire Considerazioni finali Su questa palette Ve la consiglio No No A meno che Non siate Dei super fan Di Nikita E la volete Da collezione Allora in quel caso Sì È l'unico Ombretto Per cui Mi sento Di consigliarvela Sinceramente È il glitter Che è veramente figo È un glitter Super particolare Come colori Non l'ho mai visto In giro Da altre I brand Però per il resto Della palette Sinceramente C'è colori belli Però fanno Un po' macchia Fanno fatica A sumarsi Tra loro Hanno fatica A sumarsi In generale Quindi C'è sicuramente Di meglio Sul mercato Io ovviamente La reproverò Con altre primer Magari è stato Un problema Del mio primer Non ha reagito Bene con questo Tipo di pigmento Reproverò Altre colore Sicuramente Perché ci sono Comunque tanti Colori Che mi Mi ispiravano Che non ho provato Però Per quanto riguarda I colori provati Oggi Mischiati tra loro Insieme Quindi insomma Vedete un po' voi Per il video Di oggi Direi che è tutto Lasciatemi un like Se questo video Vi è piaciuto O se in qualche maniera Può essere stato utile Se non siete ancora Iscritti al canale Fatelo ora E attivate anche La campanella Per non perdervi Nessun video Che caricherò In futuro E mi raccomando Andatemi a seguire Anche sugli altri Miei social TikTok E Instagram Vi lascio i miei nomi Qua da qualche parte E tutti i link Giù nell'infobox Che lì sono attiva Quotidianamente Con nuovi contenuti Io vi mando Un grosso bacione E noi ci vediamo Settimana prossima Con un nuovissimo video Ciao 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 Ciao